10 mesi di reclusione e 300 euro di multa a pagamento delle spese processuali, questa la pena inflitta dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sulmona, Francesco Marino, AMAM, trentenne di Sulmona, finito sotto processo per furto, utilizzo in debito di carta di credito. La vicenda risale al 2 dicembre 2020, quando, secondo l'accusa, il giovane aveva rubato il portafolli dalla borsa di una donna che conteneva 50 euro in contanti, documenti personali, tessera a Bancomat. Successivamente aveva effettuato due prelievi in due diversi sportelli bancari per un importo complessivo di 500 euro. Mentre si trovava in fila al cup, la donna si era accorta del furto, aveva asporto immediatamente denunce alla polizia. Le indagini, svolte dagli operatori del commissariato della squadra anticrimine, hanno permesso di individuare l'autore dell'episodio tramite l'analisi delle telecamere di risorveglianza installate nelle banche in un condominio vicino. Ricostruita anche la targa dell'autovettura.